Questa sera ho incontrato gli elettori nella mia sede e ho parlato del documento che ho presentato per quanto riguarda il PSR e il Consorso di Bonifica e quindi per rilanciare al meglio l'agricoltura. Ho analizzato le criticità del sistema e ho elaborato una proposta per rilanciare l'agricoltura. Per quanto riguarda il PSR, il piano di sviluppo rurale prevede dei fondi da distribuire in base a una suddivisione in aree geografiche, Mazzara, Marsala, Petrosino, Campobello e Paceco che ricadono nell'area B, area sviluppata. Queste città vengono escluse dalle misure e questo è un grave danno per l'economia. Per quanto riguarda il Consorso di Bonifica, da 30 anni i consorsi sono commissariati e quindi bisogna riportare la gestione agli agricoltori, riportare quindi gli invasi sotto la responsabilità dei consorsi e non più nell'assessorato dell'energia, sanare la situazione debitoria e attuare potenziamento e manutenzione per il Consorso di Bonifica.